come spacco prendi Tati oh che belle farfalle qui a me oh sono così bello vediamo un po' interessante è un bel massaggino oh che cosa è stato? se il bello è mio che è successo? non lo so che è successo aiuto corri corri al fuoco correte correte il drago si è svegliato wow ho dormito veramente a lungo ho fame vediamo se riesco a trovare qualcosa da mangiare che fortuna un sacco di frutta di bell'aspetto la mangerà tutta oh mio dio brucia quanta brucia quanta brucia correte correte se volete salvarvi poverino correte correte mettetevi in salvo ma che sta succedendo? correte correte salvatevi ragazzi credo che stia succedendo qualcosa di serio dobbiamo correre corri è divertente misifo non vedo nulla rilassati guido io albero a destra ma dove andiamo adesso? a sinistra attenzione al tronco che vertigini rino ma che è successo? perché tutti gli animali stanno scappando? il motivo Tatti è che dragon si è svegliato ed era così affamato che ha mangiato un intero albero di peperoncini e ora sta sputando fuoco dappertutto poverino dovremmo aiutarlo ma cosa possiamo fare Tatti? troviamo mister Monin e chiediamolo a lui che dite eh? buona fortuna ragazzi spero che funzioni finalmente incontriamo i ragazzi sappiamo già che cosa è successo anche noi qualche idea su come aiutare il drago? sicuramente nel mio zaino troveremo una soluzione questo non funziona questo neanche neanche questo neanche questo e questo no e questo no forse il latte lo potrebbe aiutare che spavento è tutto rovinato questo ponte camminate con molta attenzione è difficile Tatti ti aiuto Lily che spavento l'acqua no l'acqua no nell'acqua no è divertente guardate quanto fuoco di sicuro siamo molto vicini al drago siamo circondati dal fuoco fate attenzione e ora come arriveremo fino a lì? userò la mia bacchetta magica come se fosse un tubo oh no non posso più farlo perché la bacchetta è stanca fa davvero molto caldo qui non vi preoccupate con il mio super telecomando farò in modo che la mia casa ci mandi un drone guardate eccolo molto bene e ora ci saliremo dobbiamo salvare il drago sì lo aiuteremo drago drago guarda guarda qua su guarda qua su aiutatemi drago apri la bocca oh no è già finito oh no non ha funzionato tres tristras questa bottiglietta non finirà ecco qua amico mio va molto meglio grazie mille amici salite vi porto a fare un bel giro yuppi vi porto a fare un'altra Grazie.